Siamo in compagnia del dottore Aiese, dottore lei è stato uno degli artefici, uno in prima linea sempre fin dall'inizio di questa pandemia o sedicente tale. C'è una volontà forte di controinformazione ma è una goccia d'acqua in un oceano immenso. Come si può fare per dare una corretta informazione a quanta più gente è possibile secondo lei? Ma intanto ridare vita all'epidemiologia che nei prospetti Istat non appare questa grande mortalità se non in relazione a quello che è un aspetto previsionale. Perché nel 2020 si aspettavano comunque le morti con qualche numero in più pari al 2017 e negli anni precedenti abbiamo appunto un'attesa, una riduzione di mortalità perché esiste un'attesa, questa attesa di morti non avvenute perché abbiamo un invecchiamento della popolazione generale. Quindi se nel 2020 avevamo 300.000 oltre 70 anni in più del quinquennio precedente era inevitabile che morissero più persone. Poi bisogna aggiungere un'altra cosa, i morti veri li hanno fatti tutti nelle aree sociosanitarie dove c'è una maggiore presenza di poli ospedalieri eccellenti. Nelle regioni con minore assistenza, quelle a maglia nera, tra cui anche la Campania che è una maglia grigia, abbiamo avuto meno morti perché in queste zone funziona molto di più la medicina del territorio. Quindi se noi abbiamo, come abbiamo fatto, io ho stato responsabile di vita Covid per diversi mesi e abbiamo fatto tutto affidando ai medici di famiglia il compito di gestire i pazienti a casa, dimostrando appunto che le persone guarivano. Questa cosa è una cosa, appare un risultato formidabile, ma allo stesso tempo appare qualcosa di increscioso perché se noi dimostriamo che i pazienti guariscono a casa, finisce proprio tutta l'idea del lockdown, la saturazione delle terapie intensive. Anche quella vaccinale? La vaccinale, chiariamo una cosa fondamentale. Dai dati in mio possesso e sono le certificazioni presentate all'EMA, i vaccini non possono sottostare a quel discorso di imperativo etico, nel senso che non fanno effetto gregge. Quindi non sono vaccini, sono terapie individuali dove anche negli studi presentati all'EMA le case produttrici non facevano altro che dimostrare che in quei pochi mesi di lavoro, pochi mesi, quindi non lo studio di corte, chi era vaccinato poteva avere una malattia meno grave. Ma se 300.000 persone su cui sono state sottoposte all'esame erano per la maggior parte giovani e non un campione inferente rispetto al problema in corso, cioè la mortalità, la mediana è 82 anni e mezzo. Se io non faccio il test su tutti gli anziani e dimostro che sugli anziani ho una riduzione di mortalità, non ho un campione probabilistico e quindi lo studio non è valido. E non è valido neanche l'iconci 95%, l'intervallo di confidenza lo puoi applicare solo se il campione che utilizzo è un campione probabilistico. Quindi lo studio è completamente falso. Possiamo parlare di inoculazione sperimentale? Ma stesso ne parlano le case farmaceutiche, perché per la casa farmaceutica bisognerà aspettare 24 mesi dalla pubblicazione dell'EMA per poter stabilire se il vaccino ha un'efficacia, ma in che termini? In termini di protezione individuale, quindi non può essere chiamato vaccino. Può essere chiamato vaccino se intendiamo vaccino oppure quei farmaci che diamo agli allergici per evitare a quella persona di prendere l'allergia, ma non è in senso stretto un presidio utilizzato così come ci hanno insegnato e che noi utilizziamo in campo medico normalmente come un presidio che serve a fortunare effetto greggio, famoso effetto greggio di cui parlava anche la Lorenzin, ponendo in obbligo per esempio il vaccino antimorbillo. Anche l'effetto greggio è una cosa che va studiata, perché in Mongolia, dove raggiungiamo il 99% di copertura vaccinale nel morbillo, nel 2016, se ricordo bene, abbiamo avuto 250.000 casi di morbillo nonostante l'effetto greggio. Però almeno lì abbiamo un'idea vaccinale dove abbiamo degli anticorpi, anticorpi che non sempre troviamo anche in soggetti vaccinati, però cerchiamo di procurare anticorpi. Qua invece non conosciamo l'esatta sequenza del virus, non conosciamo quali anticorpi produce il virus. Quindi molti pensano che quando si fa un sierologico cerchiamo gli anticorpi anti-covid. No, è un test specifico che ci fa rilevare un'implementazione di IgG e IgM che valgono quanto un colpo di tosse. Tu hai le IgM alte, tu hai fatto un colpo di tosse, tu hai la febbre, tu hai la febbre, facciamo un tampone. E' predittivo per un tampone, è un segnale sierologico, predittivo per un tampone semplicemente perché è un indice a specifico di infiammazione. Quindi non conoscendo gli anticorpi, anche gli studi scientifici, diciamo pseudoscientifici portati avanti e presentati all'EMA, sono studi che prevedono non la ricerca di anticorpi, quindi il gold standard anticorpale, ma semplicisticamente il fatto che un giovane che prende il covid non si ammali gravemente. Ma c'è così, è il più. Nella fase endemica. Abbiamo appunto, perfetto, abbiamo trasformato l'endemia in epidemia. Come termine dell'OMS, fino a qualche anno fa, una pandemia era qualcosa che coinvolgeva molti paesi del mondo, ha elevata morbidità e ha elevata mortalità. Se noi invece abbiamo tolto morbidità e mortalità perché un tampone positivo non è un malato e non può neanche trasmettere qualcosa se è asintomatico, andiamo contro tutte le regole virologiche, immunologiche e epidemiologiche. Quindi se noi consideriamo malati tamponi positivi, stiamo parlando di endemie, non stiamo parlando appunto di epidemie e soprattutto stiamo mettendo un attimino in allarme la popolazione e l'epidemiologo, epidemiologia significa lo studio di ciò che incombe sulla popolazione, è allarmato perché tutto ciò che si sta avvenendo contro questo fantomatico virus è molto più letale, è molto più grave, è molto più impellente dell'intervenire verso un cambiamento favorevole per me che faccio il medico da 30 anni e che occuro le persone a casa per patologia d'organo, non applico protocolli covid di nessun tipo, sia a convenzionali che a alternativi. Io visito, è un delitto umano dare telefonicamente un farmaco senza aver visitato una persona. Mi consente una cosa da uomo della strada, dico, visto la molto veloce mutabilità di questo virus, mi spieghi perché veramente sono ignorante in materia, questi vaccini a cosa servono? Allora, questi non vaccini, perché come dicevo prima un vaccino è un presidio che serve per creare effetto gregge, queste terapie igieniche sono sperimentali, io non le so dire a cosa servono, perché leggendo e rileggendo stesso chi ha presentato queste autocertificazioni non lo sa in che misura potrebbero, perché alcuni sono ricombinanti che veicolano poco come il morbillo e AstraZeneca per esempio che hanno messo sul tavolo degli imputati, quando francamente chi sta dando, ci sono 200.000 segnalazioni all'EMA per il Pfizer e quelle che procura poi, oltretutto stanno scoprendo che procura i fenomeni elettromagnetici che passano attraverso le vie linfatiche e questa è una cosa che mi allarma, non poco. Molti casi di herpes Zorzer, perché come redazione ce li stiamo cercando, moltissimi casi di herpes Zorzer che colpiscono addirittura la retina. Il discorso appunto è che io ho lavorato diversi anni in farmacovigilanza e allora abbassavano quattro segnalazioni di eventi avversi per sospendere il commercio di un farmaco e poi si facevano ancora altri studi, capitò a suo tempo pure con il Nimesulide per un po' nel regno d'Inghilterra, della grande regina d'Inghilterra, amica di Biden e di tutto il resto. Il discorso è che oggi, dopo tutte queste segnalazioni, non mettiamo ancora in discussione la segnalazione e il blocco di questo farmaco io dico che è un discorso politico, non un discorso scientifico, oltretutto si continua a propagandare questo farmaco secondo quel concetto di imperativo etico di cui parlavo prima, dando dei permessi sociali, negando i diritti umani rispetto poi ad un'efficacia presunta, un'efficacia che saremo noi stessi, popolo cavia, a dover dimostrare tra due anni, senza però uno studio preliminare efficace, perché l'intervallo di confidenza del 95% che dovremmo moltiplicare l'errore standard e fa sullo, perché fino a questo momento stiamo sottoponendoci come cavia di una sperimentazione senza nessuna base scientifica predittiva, è soltanto un modo forzato per farci prendere un farmaco, obbligarci a prendere un farmaco in un modo strano. Qual è lo scopo e la lascio? Guardi, in America 20 stati non seguono più gli ordini esecutivi di Biden, hanno abbattuto il Covid semplicemente facendo anziché 40 e 29 cicli di replicazione al tampone. Se questa non è politica, la scienza dovrebbe essere la idea in ogni luogo, in ogni angolo dell'universo. Un fenomeno scientifico, un fenomeno deduttivo, come la legge di gravità, io dico che un corpo cade a terra ogni volta che lo tengo in lino, lo lancio in aria. Se invece qualcuno dice qualcosa e qualcuno dice il controllo di qualcosa, siamo all'interno di un aspetto potenzialmente manipolabile e siamo all'interno di un concetto di frode politica perché non ho la possibilità di trovare un solo elemento di scientificità in tutto quello che da mesi, soprattutto il governo italiano, che è il paese capofila delle strategie Gavi. Gavi firmato davanti a Obama, Speranza, no scusate, vabbè, più o meno il gruppo è quello lì, Lorenzin, Renzi, Guerra, Ricciardi presero questo accordo dove l'Italia poteva diventare il paese capofila di alcune strategie cliniche mediche. Stiamo ancora facendo questo probabilmente ed è un problema più politico che clinico che scientifico. Oltretutto lo stesso Obama mandò Feusi in Wuhan nel 2016 dicendo... Non possiamo studiare il coronavirus qua in America perché è molto pericoloso. Quindi quando Feusi mi viene a dire che il virus l'hanno fatto a Wuhan è come se dicesse l'ho fatto io. Oltretutto loro conviene dire che abbiano fatto un virus. Come lui dice, le mascherine non servono. Poi insieme mi mettono il discorso c'è un virus a Wuhan fatto in laboratorio. Dicono una cosa vera con una cosa falsa. Il discorso è che il coronavirus, abbiamo 22 milioni di italiani all'anno che prendono il raffreddore. Se io vado a picchiettare il rinofaringe d'inverno ho una produzione di materiale ricombinante e riciclabile nel rinofaringe, il pieterio pavimentoso certificato ciliato e il virus lo troverei soltanto qua. Non è stato isolato in nessun altro organo. E ne ho più materiale di ricombinazione d'inverno quando fa freddo perché d'estate improvvisamente crollano i contagi. C'è un fenomeno biologico, se non conosciamo la biologia non potremmo mai pensare di curare qualcuno. Un'ultima domanda, perché io l'ascolto per ore, le dico francamente. Un'ultima domanda, proprio un telegramma, un flash. Arriva il vaccino in Italia, in pompa magna con un pulmino di consegne di surgelati poi improvvisamente li fanno anche sulla spiaggia. Che cambia? Che è successo? Io non ci ho mai creduto che questo vaccino dovesse viaggiare a meno di 5.000 gradi. Ridevo, ridevo. Questa cosa della bofrost era solo la pubblicità ai surgelati. Io vorrei che mi dessero varie dosi, un paio di dosi per ogni lotto, per poter poi dare queste sostanze ai miei amici che si occupano di chimica farmaceutica per poter capire bene cosa c'è in queste sostanze e poter anche avere l'opportunità di dare un contributo ovemmai ci fosse un effetto collaterale che tutti i farmaci danno ma sono scomparsi gli effetti avversi per poter anche essere più bravi in quel momento a dare una mano ai miei pazienti. Sono scomparsi gli effetti avversi e farei notare anche un'altra cosa a proposito di epidemiologia. Sono scomparse tutte le altre malattie infettive. Il Covid ci ha liberato di qualsiasi altra malattia infettiva. Questo è un miracolo e questa cosa, lo dico con un tono sarcastico, è anche molto triste e questa è una cosa che mi fa riflettere sulla frode scientifica ed è un fenomeno politico.